Cosenza e spaccio di droga è un pinomio che troppo spesso alimenta le cronache dei telegiornali, proprio come è successo in queste ultime ore, dove i carabinieri del comando provinciale hanno avviato un'importante operazione antidroga, culminata con l'esecuzione di 49 misure restrittive. L'indagine, che ha coinvolto numerose località della provincia cosentina, ma che ha il suo cuore nel quartiere di San Vito, ha portato alla scoperta di una vasta rete di spaccio di stupefacenti e ha rivelato anche episodi di detenzione illegale di armi e reati contro il patrimonio. Nello specifico, il GIP del Tribunale di Cosenza ha disposto il carcere per 22 persone, gli arresti domiciliari per altre 27, responsabili a vario titolo di oltre 400 episodi di cessione di droga, ai quali si è arrivato e non solo attraverso numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, ma anche grazie alle testimonianze di circa 300 clienti, i quali hanno fornito dettagli cruciali sugli acquisti degli stupefacenti. Inoltre è anche emerso che alcuni indagati forti delle disponibilità di armi da fuoco avrebbero pianificato attenti mediatori nei confronti dei loro compratori, per assicurarsi il pagamento delle dosi fornite. L'operazione denominata Lockdown, in quanto parte dei fatti risalgono addirittura al 2020, ha visto l'arresto in flagranza di reato di 10 persone e il sequestro di ingenti quantità di stupefacenti. Gli investigatori hanno anche evidenziato come l'attività di spaccio non si sia interrotta neanche durante l'emergenza Covid, dimostrando quanto fosse radicata nel territorio coinvolgendo anche le famiglie degli assuntori. Caso emblematico emerso durante le indagini riguardo una donna che pur di garantire l'approvvigionamento di droga al figlio, sottoposto ad una misura cautelare per un altro procedimento penale, avrebbe addirittura agito come intermediaria con i suoi fornitori.